Sono stati ritrovati alcuni resti umani a seguito delle ricerche condotte per recuperare i corpi dei due membri dell'equipaggio. Roberto Mazzone, 62enne di Salerno, e Matteo Pozzoli, 58enne nato in provincia di Como, del Canadair della protezione civile, tragicamente esploso e precipitato a lingua glossa dopo essere intervenuto per sedare un rogo che già da ore insisteva sul posto, Monte Calcinera. Presenti i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, i carabinieri, la forestale, i vigili del fuoco, i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano. Rabbia, sgomento e una profonda tristezza accompagnano queste ore. Esprimo profondo cordoio per la morte dei due piloti impegnati insieme ai nostri uomini e donne del corpo forestale della regione della protezione civile in attività di prevenzione e spegnimento incendi sull'Etna, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. Sono vicino alle famiglie i colleghi di lavoro colpiti da questa tragedia. Intervento anche della UGL di Catania. Siano accertate cause e responsabilità di questa nuova tragedia sul lavoro, dicono in una nota. L'intervento delle istituzioni sul tema non è più procrastinabile. A svolgere le indagini sull'incidente sono i carabinieri della compagnia di Randazzo, coordinati dalla procura di Catania. I fronti dell'inchiesta sono due. La prima parte riguarda le cause del disastro aereo, verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo strutturali. Il secondo invece sulla causa dell'incendio per cui il Canada Air 28 era stato chiamato a intervenire, capire se è stato appiccato e quindi se sia stato doloso. I reati ipotizzati dalla procura per il momento sono quelli di disastro aviatorio, colposo e incendio. Ad ottobre sicuramente non si può morire per incendi di vasta entità che a nostro parere sicuramente non sono naturali. A nome del coordinamento nazionale e regionale USB Vigile del Fuoco e spieghiamo il nostro massimo cordoglio per quello che è accaduto ieri nel territorio di Lingua Glossa su un velivolo Caneder di proprietà dei Vigili del Fuoco con piloti di appartenenza della Babcock City che è l'ente appaltatice che pilota questi aerei che ci permettono di spegnere incendi di grossa entità ed in zone impervie. Sappiamo sicuramente che questi piloti sono piloti con alta professionalità così come di alta professionalità sicuramente sono i DOS sia dei Vigili del Fuoco che della forestale. Come USB Vigili del Fuoco sicuramente non possiamo accettare altri morti sul lavoro, ci auspichiamo sicuramente che si possano ritrovare ancora in vita questi due piloti, però ovviamente più passano le ore più questo diventa valo. In questo periodo i Vigili del Fuoco sono sicuramente al centro dell'attenzione perché c'è stato un cambio al governo, un nuovo ministro degli interni, ci auspichiamo che ci sia più attenzione verso un corpo nazionale che è martoriato da anni, dove le pacche sulle spalle sono tante, dove le parole di elogio, dopo l'essere paragonati ad eroi, sinceramente ci sta cominciando a stare un po' stretto perché vorremmo più tutele, più riconoscimento, più riconoscimenti e più rispetto per una categoria che sicuramente è messa da parte dopo che si spengono i riflettori. Grazie.